Benvenuti a una nuova puntata di NextGen. Durante questo nostro appuntamento con Invesco cerchiamo di indagare e capire quali siano le leve che guidano il mercato dell'asset management e i linguaggi da adottare per comunicare in maniera chiara ed efficace con le nuove generazioni. Ecco siamo in compagnia del dottor Franco Rossetti, head of ETF di Invesco. Benvenuto. Grazie Federica per l'invito. Dottor Rossetti, nelle puntate precedenti abbiamo affrontato argomenti di grande attualità come il bitcoin, le criptovalute e la blockchain. Ecco non potevamo non parlare però di un altro argomento altrettanto attuale che è la sostenibilità. Questo perché poco più di un anno fa il settore finanziario ha visto proprio l'introduzione di una normativa europea, la SFDR, sulla finanza sostenibile e quindi ha acceso un po' i riflettori sull'importanza di introdurre questo tipo di finanza all'interno delle imprese. Proprio la sostenibilità è anche un concetto molto caro alle nuove generazioni, i cosiddetti millennial, nel gergo insomma di oggi. Le chiedo a questo proposito quanto è davvero importante la sostenibilità per i millennial e come vedono il binomio sostenibilità a denaro? Allora innanzitutto grazie per la domanda, ormai è centrale diciamo la strategia di sostenibilità ISG in frutto anche della normativa europea è centrale in tutti i tipi di investimento. Noi dal nostro osservatore abbiamo visto sia lato istituzionale, lato retail, lato consulenti dipendenti, l'investimento ormai deve essere sostenibile. Questo anche magari è discapito un po' della performance naturalmente, però le tematiche e soprattutto gli obiettivi da raggiungere a livello come diceva giustamente prima con la normativa vanno assolutamente in questa direzione, per cui non vediamo nessuna differenza tra giovani o meno giovani o istituzionali o retail. L'investimento ISG è comunque centrale. Ovvio che la parte è ancora più giovane, ancora molto più attenta avendo anche la possibilità di avere un'informazione ormai globalizzata con i social network, con le piattaforme, hanno un eccesso di informazioni tali e un accesso, un accesso, un accesso tali da poter riuscire a decidere autonomamente dove investire o cosa scegliere. Questo infatti è fondamentale per riuscire a capire chi realmente fa il cambiamento e chi no. All'interno delle società di asset manager come la nostra e anche altre si cerca di essere azionisti responsabili e azionisti attivi nel cambiamento. Questo vuol dire partecipare in maniera attiva con l'ecovoting o il proxy voting, che dir si voglia, a votare nelle delibere assembleari delle varie società dove noi abbiamo parte all'interno dei nostri fondi, all'interno degli ETF, le delibere assembleari che vadano in quella direzione, in modo tale da essere, come dicevo prima, azionisti responsabili, essere artefici del cambiamento e questo soprattutto la generazione nuova vuole essere più attiva rispetto alla generazione passata, essere più protagonisti e meno passivi all'interno degli investimenti. Questa è la continua ricerca di società, di investimenti o anche di tematiche che siano più affini al futuro, se vogliamo. Questo ci fa capire che la differenza tra una società e un'altra, tra una società di gestione e un'altra è proprio questo, è la parte di reale attività che viene fatta per cambiare la situazione attuale. Noi in quello che noi facciamo cerchiamo di fare con tutti dei sistemi anche nostri interni, una policy interna, cercare realmente le società che stanno facendo il cambiamento, non solo fenomeni di greenwashing che viene fatto comunemente, si legge sui giornali, operazioni di cosmesi finanziarie, truccare numeri all'interno dei bilanci per far sì che una società partecipa in un'altra e è verde piuttosto che un'altra. Quello che noi stiamo cercando di fare è trovare sempre comunque il reale cambiamento e dove realmente le società dove noi partecipiamo, all'interno, ribadisco ancora, all'interno dei fondi, all'interno degli ETF, all'interno di altri prodotti finanziari, in modo tale da dare questo cambiamento reale e questa è la differenza che verrà poi sul mercato, perché quello che si spera è che le società che operano in maniera attiva in questo senso vengano premiate rispetto a società che non fanno questo. Questo vale però non solo nel settore della segmanagement che noi abbiamo visto nel settore dell'automotive, nel settore del lusso, lo vediamo, penso, giornalmente, sui giornali, ogni azienda, ogni brand cerca comunque di essere o di proporsi più green di qualcun altro, in modo tale da avere più mercato, più market share. Questo è fondamentale, sicuramente il segmento più giovane investe molto di più rispetto a quello che investivano nel passato, la mia generazione, la mia generazione anche di mezzo, dove non investivi magari, non pensavi di investire tutta la parte del tuo capitale su queste tematiche, magari abbiamo visto nelle puntate precedenti, il mio collega che parlava di numeri, si dicevano che la generazione dai 18 ai 24 investe quasi il 33% dei propri investimenti su queste tematiche, cosa che nelle generazioni passate si parla della metà, meno della metà, se non addirittura di un terzo se stiamo parlando di over 40, over 50. Sicuramente è il futuro, noi non vediamo in questo momento nessun trend diverso, è una roba tipicamente mia in Europa, forse meno sentita in America, molto più sentita in Nord Europa, però all'interno ormai di quasi tutti i prodotti finanziari, difficilmente anche all'interno di banche, di qualsiasi soluzione, l'acronimo ISG lo trova quasi dappertutto, OSRI che è la parte ancora più di Social Responsible, come le cita prima la normativa, quello che noi ci chiedono i nostri clienti, soprattutto sulla classificazione dei fondi di ETF, articolo 8, articolo 9, questo in base chiaramente ai requisiti che i clienti poi ci impongono per poter partecipare agli investimenti. Ecco, secondo una ricerca che avete svolto recentemente, il consulente finanziario è una figura strategica sia per l'intero settore che anche per i clienti. Ecco, è emerso anche che anche per i millennial, diciamo, il consulente finanziario è una figura chiave per risparmiare e per investire meglio. Ecco, questo risultato può sembrare un po' strano in quanto magari va in controtendenza o comunque, diciamo, soprattutto per il fatto che pensiamo ai millennial come ha un approccio diverso, insomma, ha un'attitudine diversa rispetto agli investimenti. Quindi, diciamo, questo cosa significa? Che magari la figura del consulente finanziario ha una continuità all'interno delle preferenze degli investitori, un po' in tutte le età, come diceva lei, insomma. E la cosa che, diciamo, magari differenzia è il modo di comunicare, approcciarsi tra le varie generazioni. Ecco, a questo proposito le chiedo qual è il suo parere sul più corretto approccio di un consulente finanziario nei confronti, anche nel modo di comunicare alle nuove generazioni e, se pensiamo al tema della sostenibilità, quali sono, a suo parere, gli elementi più importanti per poter costruire un dialogo proprio con questi giovani? Assolutamente sì, è chiaro, è un ponte generazionale. Il consulente deve essere il tramite, visto che stiamo parlando di generazioni 18-24, massimo 35 anni, c'è un ponte generazionale fra quello che veniva, diciamo, il rapporto di affidabilità e di professionalità che aveva il consulente con la famiglia, deve essere tale da poter trasferire, diciamo, questa stessa affidabilità e fiducia nei confronti delle generazioni più future. È ovvio che l'approccio deve essere diverso, chiaramente, come stavo dicendo prima, l'accesso ai dati, alle piattaforme, a tutto subito, al poter comprare con un'app o fare un investimento direttamente, ormai ci sono piattaforme di tutti i tipi, algoritmi di trading, algoritmi di gestione, per cui il consulente deve capire il linguaggio nuovo, deve riuscire a intercettare, chiaramente, in maniera proactive, questa è secondo me la differenza, mi personalissimo avviso, rispetto magari a quello che poteva essere la figura di un consulente di anni passati, essere molto più proactive nell'investimento, capire il linguaggio o comunque le technicality, le app o tutto quello che il mercato offre, per riuscire a mantenere quel rapporto di affidabilità e di professionalità tale che ha mantenuto per generazioni. L'Italia è anche un paese dove normalmente il tutto viene affidato alle reti bancarie, per cui normalmente il rapporto fiduciario è in capo alla banca, al consulente sicuramente che tiene, però esistono delle relazioni stabili, stiamo parlando di ragazzi giovani che magari si trovano ad avere o per lavoro, inizio del lavoro o comunque della disponibilità finanziaria data dai genitori e sono situazioni ereditate e normalmente il rapporto fiduciario se funziona prosegue. Io nel mio osservatorio non ho mai visto il continuare a cambiare, non siamo un paese come può essere magari il nord Europa dove hai un continuo cambiamento di relazioni bancarie, normalmente chi ha portafogli o gestioni patrimoniali banalmente o anche i rapporti di amministrato presso una banca difficilmente continua a cambiare l'istituto, normalmente tiene il rapporto fiduciario con l'istituto e tiene il rapporto fiduciario con il consulente. Certo, cominciare giustamente prima è fondamentale che il consulente riesca a mantenere questo rapporto vivo, ma questo vale per tutte le professioni, da commercialista, avvocato, il gestire il cambiamento generazionale è fondamentale e per poterlo fare devi parlare il linguaggio chiaramente o essere attento alle tutte le nuove applicazioni e noi banalmente anche in quello che facciamo noi per approcciarsi chiaramente lo strumento dei social network viene più utilizzato rispetto a un tempo, le piattaforme web vengono utilizzate più di un tempo, anche solo il rendere noto magari strumenti nuovi che abbiamo quotato o prodotti nuovi vengono utilizzati in mezzi magari che anche banalmente 5 anni fa non venivano utilizzati. La presenza su LinkedIn ad esempio o su altri social network che magari una volta erano solo meramente professionali, a me sta diventando quasi tutto commerciale perché se lei guarda qualsiasi social network da Instagram a LinkedIn il grosso è commerciale, sono prodotti che vengono proposti, soluzioni, investimenti, servizi, cioè devi essere al passo coi tempi e devi come le macchine ibride o elettriche devi riuscire a proporre i tuoi servizi e i tuoi prodotti in una chiave chiaramente attuale. Ecco abbiamo ripetuto insomma diverse volte durante questa intervista il fatto appunto che i giovani hanno questo accesso immediato a tutto, ormai veramente con internet, la rete, le app si può avere tutto in qualsiasi secondo diciamo, per questo viene un po' chiamata la Amazon Generation, la generazione appunto dei millennial e un po' un approccio che va in contraddizione magari con l'attenzione verso alcuni aspetti di sostenibilità. Ecco l'ottor Rossetti le chiedo se questa incoerenza si manifesta anche quando parliamo di investimenti e come il consulente finanziario può aiutare le nuove generazioni e inoltre diciamo le chiedo se esistono degli strumenti che possano adattarsi anche alle esigenze di questi millennial quindi anche ai loro obiettivi, insomma alla loro attenzione verso i temi di sostenibilità. Esatto, sì è fondamentale in tutti gli investimenti avere un professionista, questo penso che sia la base insomma dell'investimento, cioè l'investimento fai da te lascia un po' il tempo che trova soprattutto proprio per queste motivazioni di criteri di sostenibilità, cioè l'avere un consulente dipendente, un consulente all'interno di una banca o comunque un professionista che ha gli strumenti necessari per capire realmente come diceva lei prima, vedo tutto, prendo tutto subito, see now, buy now, compro i prodotti e poi sono sostenibili veramente? Cioè l'accesso che ho io ai dati mi consente di avere la certezza al 100% che l'investimento che viene fatto è sostenibile e ha tutte le caratteristiche e requisiti richiesti, l'avere il consulente o l'avere il professionista che fa un ulteriore filtro a tutto questo fa la differenza, il fatto che all'interno delle società di gestione o le società che fanno gli indici riescano comunque a fare determinati filtri, normalmente una persona anche con l'accesso alla tecnologia internet, non puoi andare a vedere nei bilanci di tutte le società esattamente se sono coinvolte nel tabacco, nelle armi non convenzionali, nel senso che è fondamentale la figura del professionista, questo è innegabile, per cui quando lei dice se non sono all'antizisi le due cose direi di no, nel senso che tutto subito sì con un consulente, tutto subito sì con il professionista che mi aiuta, allora io sì che ho la possibilità tra i social network, internet di riuscire a leggere tutto quello che succede nel mondo e avere un accesso ai dati illimitato, però ho una persona che mi guida e mi dice guarda che magari non è esattamente così come è fatto, non è esattamente così il prodotto, è meglio fare A piuttosto che B. In base agli strumenti, anche lì è un altro discorso, sicuramente il potere avere tutto subito fa la differenza, non sono più disposti ad avere investimenti come erano in passato dove è estremamente burocratizzato, estremamente complesso la sottoscrizione di prodotti finanziari o il disinvestimento di strumenti finanziari, uno strumento che ai giovani piace ma come diciamo tutti quanti ultimamente è lo strumento degli ETF, sono fondi listati estremamente liquidi, hai la possibilità su qualsiasi piattaforma di comprarli, ovviamente sempre tramite una banca o un intermediario, hai la possibilità di vedere in real time i prezzi, quanto scambia, il fatto che lo puoi vendere e avere l'incassare due giorni dopo come una normale azione, il fatto di poter investire su tutte le asset class possibili e immaginabili perché ormai lo strumento che è un wrap di fatto, è un fondo, però la possibilità di investire in tutti i sottostanti, equity, fixed income, tematici, settoriali, le valute, le criptovalute come il bitcoin o le blockchain è l'accesso in assoluto più semplice al mercato perché se io fossi un ventenne, se fossi un ventenne e volessi subito avere la possibilità perché ho letto un articolo magari su blockchain che mi interessa, mi sono andato a studiare il procedimento che c'è dietro, il bitcoin, la cosa più facile che posso fare, vado su una qualsiasi piattaforma dove ho il conto, compro l'ETF quotato sulla borsa di Milano o l'ho quotato sulla borsa di Francoforte online e l'ho comprato, con tutti i regolamenti e tutte, tra virgolette, le certezze di averlo comprato su uno stock exchange ufficiale, cioè questo è il valore aggiunto dei fondi, degli ETF che sono quotati perché hai la possibilità mantenendo una determinata sicurezza nel trading, poi questo è indipendentemente dall'investimento che chiaramente i rischi ci sono, però la certezza e la regolamentazione che sta dietro, per cui il poter essere anche in questo caso qua ISG o SRI accede a tutta una gamma di strumenti quotati dove sono tutti, c'è stato doppi filtri, vengono fatti due diligence interne all'interno sia dell'emittente, sia dell'index provider che crea l'indice sottostante per avere tutti quei filtri e quelli requisiti per adempiere a quella normativa che citava lei prima. L'unica cosa che ancora manca a livello anche europeo non c'è una definizione esatta di tutto ciò che è sostenibile, ogni società cerca di crearsene in base ai principi generali, ogni società cerca di crearsi qualcosa di diverso o di simile, però non c'è ancora una definizione univoca di tutto quello che viene fatto, il caso ultimamente a fronte della tragedia della guerra ucraina, le armi anche lì. Per anni abbiamo sempre escluso tutto il settore degli armamenti e della difesa da tutte le tematiche ISG, adesso molte società di gestione, soprattutto nel nord Europa, iniziano a dire che qualora gli strumenti siano di difesa possono essere inseriti, allora lì le faccio io la domanda a lei, se lei è un gestore ISG e gestisce un fondo, le inserisce o non le inserisce? Le società che gestiscono, banalmente io faccio un esempio, siamo in Italia, parlo di Leonardo che è ex meccanica, che è operante nel settore della difesa, si mettono o non si mettono in un portafoglio? Se io fossi un ragazzo giovane compro o non compro? Cioè è sostenibile o non è sostenibile quando qualcuno mi dice che se sono a scopo di difesa in questo caso sono sostenibili, capisce che… Insomma non è… Esatto, la tematica è abbastanza complessa, si parla anche in MIFID che faranno probabilmente una normativa a breve dove verrà chiesto una percentuale dell'investimento sostenibile all'interno dei portafogli, al momento ogni società di gestione anche a livello istituzionale, si crea i propri paletti, i propri paletti all'interno del quale va a incasellare le sue scelte di strategia SG. Un po' a libera interpretazione? È un po' a libera interpretazione, la normativa come in tutte le normative europee è generica, è generalizzata, ci sono dei requisiti chiaramente che impongono, poi all'interno la norma come si suol dire va interpretata agli amici e applicata ai nemici, per cui si vedrà, insomma al momento c'è ancora, su queste tematiche ad esempio non c'è, si è ancora abbastanza un po' di confusione su certe cose, poi dipende molto dai settori, però i filtri che vengono fatti per garantire che l'investimento sia realmente green, perché se lei ha visto sui giornali anche negli ultimi mesi c'è stato un sacco di scandali di società di gestione grosse, anche oltreoceano, dove venivano messi società petrolifere come green, che green non sono, per quanto si parla di green washing all'interno dei bilanci, anche lì è chiaro che nel momento in cui si fa un investimento green non si mette, come in questo caso il petrolio, le fonti energetiche che hanno avuto negli ultimi mesi delle performance a due zea, a doppie, è chiaro che si perde un pezzo della performance andando però a scegliere un investimento a lungo periodo che sia sostenibile, però queste sono tutte tematiche chiaramente che per quello che vi sto dicendo ci vuole un professionista, il consulente, un portfolio manager o comunque che affianchi l'investitore, anche se giovane o anche se ha le prime armi, per fare delle scelte giuste, perché se no il rischio è che tu credi di aver fatto un investimento green e non l'hai fatto, questo è un po' come anche nel settore automotive, le macchine ibride, le macchine elettriche, spesso il fatto di avere magari una batteria o comunque un sistema elettronico che abbassa le emissioni non è che la macchina non inquini veramente, per cui è fondamentale secondo me aver sempre una persona che ti possa seguire in maniera professionale. Bene Dottor Rossetti, io la ringrazio per averci chiarito alcuni aspetti, averci dato questa un po' panoramica anche dell'importanza della sostenibilità, dell'importanza di comunicare alle nuove generazioni e comunicare anche in un certo modo con figure specializzate e professionali. Bene, ringrazio anche i nostri telespettatori per essere stati con noi e per averci seguito in questa puntata di NextGen. Grazie a tutti.